ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi mukbang è a base di risotto allo zafferano con midollo oggi accompagnerò questo piatto con un rosso scusate se prendo così il decanter ma gli spazi limitati sicuramente non aiutano iniziamo questo mukbang facendo un brindisi a tutti voi che decidete di esserci quotidianamente vi ringrazio per sostenermi e per il tempo che mi dedicate come sapete ragiono un po fuori dagli schemi e mi sento fortunata nonostante so che non dovrei prendere il mondo social come il mondo reale a volte non ci riesco la vostra vicinanza la sento perciò un brindisi a noi come immaginavo la temperatura del vino è un po troppo bassa il che significa che non riusciamo a gustarlo appieno speriamo che con il calore della stanza la situazione un po migliori prendo la forchetta e direi di iniziare subito a mangiare questo riso come era prevedibile è diventato quasi ghiaccio però purtroppo i tempi tecnici sono quelli che sono a volte mi ritrovo a mangiare piatti freddi senza volerlo perché tra la miniatura chiudere la live preparare il set per registrare diventa tutto molto molto lento che ve lo dico a fare l'unica cosa che mi rode è che ho utilizzato lo zafferano in polvere non in pistilli ci siamo ridotti all'ultimo ieri per cercarlo ed ovviamente nei supermercati non lo avevano vabbè è pazzesco sono andata ad aggiungere due bustine forse ho esagerato però devo dire che finire il gusto non siamo andati a compromettere il riso meno male il midollo si sente molto poco secondo me perché ne sono andata a mettere una quantità ridicola nonostante abbia fatto poco riso il midollo che avevo a disposizione era troppo poco e non bastava a dare carattere a tutto il risotto infatti lo vorrò rifare successivamente e preparatevi quel giorno ci divertiremo molto diciamo che questa ricetta è nata un po per caso visto che su twitch questa settimana ci sarà la settimana a tema messicano se non volete perdervi l'insilata sverdes il tinga di pollo con il guacamole e i vari chili da fare con carne tritata di pollo manzo e maiale vi consiglio di venire a seguirmi vi lascio il link giù nell'info box vado in live ogni giorno dalle 10 alle 13 a parte il momento sponsor avrete letto per coloro che l'hanno fatto che il titolo è un po strano rispetto al solito non vedo l'ora di bere il brodo perché secondo me è venuto proprio saporito ho cotto l'osso buco all'interno del brodo di pollo e verdura e quindi quando vado a mangiare il risotto mi rimane poi sul finale questo retro gusto di brodo di carne che per chi mi conosce un po saprà che mi fa impazzire è venuto uno spettacolo davvero veniamo a noi volevo leggervi un commento che mi è stato lasciato l'altro giorno mercoledì per l'esattezza qualcuno di voi avrà notato che sul mio canale commenti negativi provocatori non ce ne sono questo per mia scelta è un mio spazio decido io cosa lasciare e cosa invece cancellare un po come quando viene qualcuno a casa vostra siete voi a dettare le regole questa è casa mia la porta per voi è sempre aperta però come per la vita ci sono dei limiti leggiamo il commento che mi ha fatto un po ridere io cara ho provato a seguirti per anni potenzialmente i tuoi contenuti mi interessano anche tanto parli veramente troppo quando fai un mukbang in 16 minuti sono 5 bucconi e 13 minuti di parole smetto amichevolmente di seguirti ogni bene allora il commento in sé non penso sia stato scritto con tono cattivo o provocatorio però devo dire che non mi è piaciuto perché i miei mukbang sono sempre stati video che io ho utilizzato sia per portarvi dei piatti interessanti sia però per mantenere un rapporto come ci sono creator che parlano alla fotocamera mentre stanno seduti ad una scrivania mentre passeggiano mentre spacchettano qualcosa ci sono io che vi parlo mentre mangio questo commento non mi è piaciuto perché l'ho visto tipo mangia di più e parla di meno adesso il piatto che vado a mangiare è lo stesso sia che tra un boccone l'altro mangio sia che mangio e basta nei miei mukbang non c'è mai stato scritto asmr se vi interessano i mukbang asmr c'è un canale apposito che si chiama fabbio la genovese asmr al momento c'è caricato solo un video prossimamente ne usciranno altri quindi questo format scelgo io come impostarlo perché la base è sì un mukbang però come avete sempre visto nel corso degli anni metto poi accanto al titolo quindi mukbang eating show eccetera eccetera anche un argomento principale che sarà poi quello di cui andremo a parlare nel corso del video sostanzialmente da un orecchio mi entra e dall'altro mi esce perché sono io che decido cosa postare sul mio canale e cosa mostrarvi se poi vi piace siete liberi di seguirmi se non vi piace nessuno obbliga nessuno a rimanere non ti piace il contenuto prendi e vai via ma fallo anche in silenzio sinceramente perché a me di perdere una persona alla quale interessa solo vedermi mangiare e magari spera che io un giorno porti come massimo dei contenuti un classico mukbang in stile coreano quindi con piattoni così davanti dove c'è gente che mangia in modo poco sano oserei dire sinceramente non è una persona che mi dispiace perdere poi mi viene un po da ridere perché queste critiche vengono sempre fatte a me che sono stata la prima in italia a portare i mukbang fatti come si deve perché qui su youtube in italia leggo mukbang in ogni dove e nessuno li fa correttamente vi porto proposte interessanti piatti inusuali anzi andremo sempre di più migliorando perché come vi dicevo prima di tornare su youtube ho deciso di mostrarmi più per quella che sono piuttosto che per quella che farebbe più visualizzazioni io sono fabiola genovese che nella sua vita mangia bene non in quantità industriali c'è stato un periodo in cui forse mangiavo un po di più ma fortunatamente è passato quindi questo è quello che troverete se poi come vi dicevo prima non volete sentirmi parlare andate a seguirmi sul canale smr perché prima o poi un video a settimana anche lì uscirà secondo me è una cosa bellissima mangiare e chiacchierare io l'ho sempre vista come noi che andiamo a pranzo fuori e ci facciamo una chiacchierata perché sì a differenza di molti altri colleghi e colleghe io vi vedo come persone non come fonte di guadagno non come numero per me siete tutti delle persone con una testa pensante e che vorrei conoscere poi ovviamente non potrà venire con tutti e tutte però quando si presenta l'occasione come chiunque mi ha incontrato può testimoniare sono la prima a proporvi di incontrarci di conoscerci perché proprio c'è un reale interesse da parte mia nell'avere una conoscenza reciproca io non sono qui per elevarmi a persona che vedrete solo nello schermo perché più di quello no per carità non sono mai stata quel tipo di persona e mai lo sarò fortunatamente aggiungerei come vi dico sempre non fatevi problemi se mi incontrate perché quella che vedete in video ritrovate poi nella realtà perciò sentitevi come di parlare ad una persona che vedete nel quotidiano se ovviamente seguite i miei video nel quotidiano infatti con tutte voi e tutti voi con cui ci siamo conosciuti c'è sempre stato da subito un bellissimo rapporto come se ci conoscessimo da anni per questo video è tutto io spero vi sia piaciuto se così è stato mi raccomando lasciate like ed iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video che usciranno vi aspetto mercoledì e venerdì in live su twitch dal 10 alle 13 mentre mercoledì e venerdì alle 20 qui su youtube come sempre vi mando un bacione noi ci vediamo mercoledì con un nuovo video ciao 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 ciao